salve ragazzi benvenuti a un nuovo tutorial continuiamo a parlare di thread questa volta svolgeremo questo esercizio abbiamo un processo padre che con un istruzione fork genera un figlio questo figlio a sua volta genera un altro figlio il figlio effettua un calcolo e diciamo così il nipote visto che il figlio del figlio genererà un altro calcolo al termine di questi calcoli si riuniscono al padre il quale sommerà ai due valori calcolati dal figlio e dal nipote il valore 5 quindi cosa dovremmo fare dovremmo creare una classe main che genera il figlio che sarà una classe al suo interno il figlio genererà un altro figlio che svolgerà questi calcoli quindi abbiamo bisogno di tre classi la main e il primo figlio e lo chiameremo nipote andiamo a sviluppare il codice ho qui la mia interfaccia file new project sempre java with ant java application next lo chiamerò progetto figlio nipote andiamo a creare ecco qui al solito io vado a cancellare i commenti sempre per non rubarvi spazio ripeto non perché non siano utili è la prima cosa che andrò a fare è generare la classe figlio quindi all'interno del package new java class la chiamerò la prima cosa che farò è dirò che il mio figlio thread quindi va extend 3 avrò bisogno della variabile x che indico come intera ea qui assegno inizialmente il valore 0 dopodiché vado a creare il mio costruttore per la classe 3 vado direttamente con insert code costruttore ho generato il mio costruttore dal quale erediterò tutti i parametri della classe madre punto posso andare con l'unico metodo della classe extend che è come sapete run public void run mi segnala subito che un over ride quindi aggiungo la mia notazione e cominciamo a codificare cosa dobbiamo fare ma è semplicissimo vado a riprendere il grafico dobbiamo calcolare questo valore x uguale 5 più 4 poi generare un altro figlio darò un darò un nome a questo figlio allora scriverò set name visto che il figlio metterò figlio dopodiché andrò a fare x uguale 4 più 5 che è l'operazione che dovevo fare lo facciamo visualizzare per sicurezza quindi system punto auto punto print line cosa farò visualizzare farò visualizzare sono il trade mettiamo più e mettiamo a questo punto il nome del trade ma anziché farmi visualizzare figlio lo vado a prendere con il metodo get name quindi thread punto current thread punto get name più ed ho calcolato più facciamo visualizzare la nostra x quindi questo punto sullo schermo ci apparirà sono il trade figlio e ho calcolato 9 andiamo a generare il nostro nipote quindi effettuiamo un'istruzione che tecnicamente si chiama fork ma che qui codificheremo così sarà un trade nipote quindi nipote lo chiamerò cr2 visto che il secondo trade uguale new nipote ma perché mi segnala l'errore ma è semplicissimo perché ancora non ho creato la classe nipote quindi vado in progetto nel package new java class che creo nipote anche qui vado a cancellare anche lui è un trade quindi extend creo la variabile che mi serve per il calcolo int y uguale a 0 punto virgola vado a creare il mio costruttore quindi tasto destro insert code costruttor segnalo thread e all'interno di questo costruttore anche qui mi vado a richiamare i parametri della classe costo della classe thread anche qui avrò il metodo run ma per abbreviare vado a copiare questo lo prelevo dal figlio setto il nome questa volta in nipote e il mio calcolo diventa y uguale torno a guardare la slide 6 più 2 6 più 2 sono il 3 e ho calcolato y questa riga la cancello ma questo nipote dovrà pur restituire il suo valore quindi creerò un metodo public get value e al suo interno ritornerò y poiché ritorno il valore questo get value sarà unit ritorno al figlio una volta creato il thread dobbiamo farlo partire tr2 visto che sono due punto start una volta partito il nipote a questo punto cosa dobbiamo fare torno qui alla slide figlio e nipote si uniscono vedete qui c'è esattamente quella che noi chiamiamo join quindi tr2.join punto e virgola e l'istruzione join ormai lo sapete va messa all'interno del blocco try catch in questo modo vado a fare l'identazione una volta che i due processi si sono riuniti il processo figlio deve prendere il risultato del nipote quindi farò y uguale tr2.get value e ancora questa y non l'ho dichiarata quindi qui oltre la x vado a dichiararmi anche la y ho concluso con il metodo run ma questo valore calcolato più il valore che gli ha passato il figlio devono ritornare al padre quindi creerò un public get value figlio in cui restituirò il valore di x e chiaramente sarà un int nipote faccio la stessa cosa per quanto riguarda il nipote lo chierò get value nipote e ritornerò y quindi il figlio cosa fa? fa il calcolo crea il trade nipote lo fa partire una volta finito si riunisce per prendere il valore con la get value con il metodo get value figlio ritorna il valore che ha calcolato il figlio e col valore get value nipote ritornerà il valore che ha calcolato il nipote torno al main andiamo a sviluppare il main beh io per prima cosa gli farei dire system.out.println poiché non posso fare il set name per il main dirò sono il padre a questo punto il padre va a creare il thread per il figlio quindi figlio sarà il thread 1 uguale new figlio lo facciamo partire terminata l'esecuzione il padre deve aspettare che il figlio finisca quindi tr1.join prendiamo il valore che è stato restituito quindi x uguale tr1.get value figlio e y uguale tr1.get value nipote punto e virgola errori perché perché non abbiamo dichiarato né la x né la y quindi metterò qua int x y poiché anche lui deve fare il calcolo z una volta che ha avuto i tuoi valori z uguale x più y più c punto e virgola lo facciamo visualizzare system.out punto print line il padre ha calcolato x più x più e più e più mettiamolo più y più 5 5 uguale più il risultato che è z così abbiamo modo di verificare la sua esattezza. vediamo mi mi segnala ancora l'errore perché al solito possiamo inserire all'interno di un blocco try catch tutto il codice. proviamo ad eseguire il primo thread che parte il padre, il figlio che ha calcolato 9, il nipote che ha calcolato 8 e infine il calcolo totale. vedete molto semplice, quindi ricapitolando il thread padre, visualizza sono il padre, crea un figlio e lo fa partire. quando il figlio parte, effettua il suo calcolo, genera un ulteriore figlio, lo fa partire, quindi parte il nipote, effettua il calcolo e ritorna il valore al figlio. il quale ritorna, prende il valore che ha creato il nipote e con il metodo getValue ritorna il calcolo da lui effettuato e il valore ritornato dal nipote. quindi ritorna qui perché c'è una join, la join prende il valore del figlio, prende il valore del nipote, dopodiché effettua il calcolo e lo visualizza. credo che sia stato molto semplice, lo rivediamo. questo è il risultato finale, bene spero di essere stata chiara, che il video vi sia piaciuto, se è così ci vediamo alla prossima. grazie 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 grazie